Approfittava della sua posizione di datore di lavoro per costringere le sue dipendenti a sottostare alle sue avance, anche sessuali. Finisce agli arresti domiciliari un uomo di 49 anni, titolare di un bar a San Cataldo, nel Nisseno. Sin dall'estate del 2017 costringeva le proprie dipendenti, alcune delle quali all'epoca dei fatti minorenni, a subire atti sessuali contro la loro volontà. La misura cautelare arriva dopo la denuncia del fidanzato di una delle ragazze coinvolte nella vicenda. Secondo il suo racconto, nell'estate del 2017 la ragazza lavorava al bar e durante i turni subiva continuamente apprezzamenti e palpeggiamenti. L'uomo sarebbe arrivato a portarla a casa propria, dove l'aveva costretta a consumare contro la sua volontà un rapporto sessuale. La ragazza, intimorita, non aveva raccontato quanto accaduto, trovando solo successivamente il coraggio di rivelare tutto al proprio fidanzato, dopo aver saputo della medesima sorte toccata ad un'altra ragazza. Al vaio delle indagini, condotte dai carabinieri di San Cataldo e coordinate dalla procura della Repubblica di Caltanissetta, anche ulteriori episodi di violenza. Anche altre ragazze che avevano prestato attività lavorativa presso il medesimo esercizio hanno raccontato la serialità degli abusi dell'uomo.